Posso entrare con la telecamera? No, un attimo! Posso entrare l'internet dentro il nostro bagno? Puoi aspettare un secondo? Il popolo dell'internet? Tutto nel bagno? La prima mano è finita e... mi devo bere una cosa perché la birra è finita ma che ne bevo? Non c'è più birra a casa c'è il succo di frutta e il caffè non lo so nemmeno io, è stata una faticaccia terribile Il bagno è un po' più buio di come era prima, prima c'era più luce anche il flash, non c'è il flash qua Non riprende Non ti riprendo Ancora non ci siamo ancora c'è la moglie che fa i particolari, Lady Di Maro come la chiamiamo? Donna Di Maro Donna Marzia che fa i particolari è un po' più buio rispetto a prima anche perché Indaco poi si è rivelato in realtà indico indaco in realtà è derivato a essere blu scuro ma non è neanche blu scuro vagamente blu scuro ma comunque è bello a superficie del muro da dipingere non si misura facendo il pavimento lato per lunghezza che viene una cifra invece i muri sono un'altra cifra proprio per cui la vernice non è bastata non vengo a fare i dettagli non vengo a fare i dettagli un attimo che voglio far bene ai ragazzi un attimo come è venuto stai in disabilire pausa non non